ciao a tutti e bentornati sul canale di safutobu eccoci di nuovo qui in compagnia di semus riprendiamo metroid dread da questo punto dove abbiamo concluso lo scorso video in questo nuovo episodio vorrei cercare dei nuovi potenziamenti qui ad iron se possibile ci sono ancora delle zone da esplorare ok qui c'è una bella trappola che ci attende vediamo se qui in alto possiamo fare qualcosa siamo già a posto è rimasto ancora lemmi di questa zona da da sconfiggere lemmi giallo che abbiamo visto essere super veloce non sono sicuro però di riuscire a distruggere l'unità centrale già adesso forse ci serve prima un upgrade però verifichiamo un attimo facciamoci prima una bella esplorazione qui possiamo usare la nostra nuova abilità per distruggere questi buboni e anche qua per il momento non possiamo fare altro dobbiamo controllare l'altra parte di mappa perfetto controlliamo di qua sembra che manchi l'energia quindi dovremo controllare bene anche da questa parte ecco non siamo soli e pieno di nemici infami no anche qui ci serve poi un'altra abilità per attivare dei condotti quelli piccolini finiamo di girare un po di esplorare questa parte qua questi sono pericolosi perché attaccano immediatamente caricano come dei maledetti però per fortuna la maggior parte dei nemici sono deboli al perri almeno quasi tutti allora ci sono anche degli esperimenti in corso sembra su creature da questa parte vediamo se qua sopra riusciamo ad arrampicarci ecco forse di qua possiamo fare qualcosa più che altro sbloccare la scorciatoia con la parte di prima qua sotto però c'è un passaggio ecco qua possiamo riattivare la corrente in questa zona magnifico e non possiamo tornare indietro perché tutta un'area a bassa temperatura e adam ci ha detto che con le nostre tute attuali non possiamo fare molto siamo a posto ora che c'è un po più di luce possiamo controllare meglio anche questa zona si sono già rifatti tutti i nemici ecco qui in alto c'è un passaggio che possiamo sbloccare con il nostro missile perfetto ecco un'altra abilità la bomba una bomba che può essere usata in modalità morfosfera per piazzare una bomba premi y mentre sei modalità morfosfera le bombe possono danneggiare i nemici distruggere blocchi bomba o rivelare blocchi nascosti l'esplosione catapulterà se emus in aria quando in modalità morfosfera ottimo quindi adesso possiamo scoprire nuovi passaggi che altrimenti non potremmo diciamo rivelare ecco ad esempio qui un altro serbatoio missili e grazie alla bomba possiamo attivare anche questi condotti eccoci qua non siamo soli c'è un nuovo guardiano forse possiamo fare i perry se non ricordo male senza i peri davvero tosto da distruggere molto resistente anche ai missili qui ci siamo passati prima e c'era questo condotto qua che adesso però possiamo controllare li stanno facendo qualcosa di brutto via e c'è un altro passaggio allora facciamo che salvare un attimino va andiamo avanti anche di qua e ritorniamo però dall'emmy eccolo lì ecco quella mina è meglio distruggerla sempre perché fa troppo rumore potrebbe rivelare la posizione all'emmy ecco vediamo qui cosa possiamo fare perfetto c'è un'altra area nuova nuova ecco questi sono corazzati però gli possiamo fare un bel attacco perry mi ha beccato lo stesso allora siamo arrivati ad un'altra stazione quindi possiamo lasciare temporaneamente da iron e ci spostiamo in un'altra zona periferica burenia e anche qui dovrebbero esserci nuove abilità ad attenderci tra l'altro ragazzi vi ricordo come sempre di lasciare un like se il video vi piace anche un commento per farmi sapere le vostre impressioni e condividete anche il video per supportare il canale eccoci arrivati qui c'è il mare in tempesta in questa zona cambia completamente la location ecco questi mostri invece ci attirano a loro per farci dei danni ah qua non possiamo ancora prendere quell'oggetto perché abbiamo la corrente contro è una zona sottomarina vediamo un po' cosa possiamo fare finiamo eh vai via finiamo di controllare quest'area qua adesso sott'acqua ci possiamo muovere più lentamente e quindi alcune azioni che solitamente possiamo fare qui risultano più difficoltose anche solo i salti sono più difficili e non possiamo rimbalzare bene sui muri come al solito qua è pieno di questi mostriciattoli qui ce n'è un altro anche questi blocchi qui per il momento non li possiamo togliere allora vediamo cosa abbiamo qua c'è qualche mostro lì in alto via perfetto qui c'è uno strano motore marchi ingegno e mi sa che qui Adam avrà qualcosa da dirci i livelli più bassi di Durenia sono per lo più sommersi per muoverti efficacemente in quell'area ti servirà la tutta gravità abilità come il raggio gancio e lastro salto ti aiuteranno a muoverti sott'acqua ottenile il prima possibile va bene quindi ci serviranno altre abilità questo ecco è un fabbrica mostri ok però è debole al contrattacco anche lui e mi ha preso lo stesso e per il momento possiamo esplorare solo parzialmente questa parte alta ci serve il il raggio gancio eccoli qua facciamo esplodere quel bubone anche qui ci servirà un'altra abilità che per il momento non abbiamo possiamo però proseguire qui in basso c'è un'altra area e anche qua ci siamo arrivati qua in alto c'è qualcosina che possiamo prendere dobbiamo prima liberarci la strada ecco infatti c'è un altro serbatoio pronto per noi qua c'è un millepiedi e dobbiamo continuare a scendere per ora ok l'abbiamo sistemato qua forse non possiamo ancora andare perché non basta l'abilità dell'invisibilità quell'altro serbatoio per il momento non lo possiamo prendere perché il terreno cede sotto i nostri piedi l'unica cosa che possiamo fare è scendere ne approfitto per salvare ancora una volta qua sotto dovrebbe esserci però un'altra abilità che ci sarà utile per arrivare nella zona con l'unità centrale che controlla l'emmi giallo e quindi poi accidenti a lui anche sconfiggere l'emmi giallo mi ha fregato per un pelo anche qua ci serve il gancio traino ma non ce l'abbiamo sì questi nemici apparentemente sono abbastanza innocui fanno più che altro azione da disturbo qui in basso a sinistra possiamo recuperare un bel serbatoio da 10 missili basta scendere tutto a sinistra siamo arrivati nella parte più profonda che possiamo esplorare per il momento quindi adesso controllo ancora la parte qui a destra e poi mi sa che dovremo risalire anche perché come ha detto Adam poi ci servirà l'altra abilità la tuta anche antigravità per il momento quindi le nostre possibilità sono limitate qui dovrebbe essere soltanto una scorciatoia e qui in alto però dovrebbe esserci un'altra abilità dobbiamo solo tornare su da questa parte andiamo e infatti c'è una bella abilità pronta ad attenderci ecco lo sprint istantaneo ci sarà utile per superare alcuni blocchi tra una zona e l'altra un'abilità Aeon di combattimento che permette a Samus di muoversi istantaneamente in avanti o indietro per una determinata distanza quando l'indicatore Aeon è pieno tieni premuto A per prepararti allo sprint istantaneo poi inclina L in avanti o indietro per spostarti istantaneamente in quella zona oppure premi A mentre ti sposti questa abilità può essere usata anche a mezz'aria Samus può seguire fino a un massimo di due sprint istantanei aggiuntivi tenendo A e premendo L in avanti o indietro immediatamente dopo lo sprint istantaneo per eseguire uno sprint istantaneo è necessaria tutta la carica dell'indicatore Aeon e per gli sprint istantanei aggiuntivi invece non è necessaria un'altra carica e ci servirà ad esempio qua ecco questo era il blocco che c'era prima qua sotto dovrebbe esserci quel serbatoio che non ho preso prima se non sbaglio o forse era sopra si controlliamo bene qui in alto perché era era qui che i blocchi cedevano sotto al nostro peso adesso con lo sprint potremo superare questa parte eccolo qui molto facile e un altro serbatoio ci serve come come il pane avere più punti vita possibile via eh no devo avere un tempismo migliore perfetto per il momento dovremmo aver finito in questa parte di Burenia mi interessava recuperare questa abilità adesso possiamo spostarci verso il trasporto che ci riporterà indietro verso Dairon e provare a raggiungere l'unità centrale qua sotto c'è un altro potenziamento però non sono sicuro di riuscire a prenderla adesso perché bisogna avere davvero un tempismo molto veloce per entrare in questa zona vediamo se ce la faccio no ci serve la tuta antigravità quindi poi torneremo in un secondo momento via tutte queste farfalline qui per il momento non c'è altro però abbiamo fatto spostare la piattaforma che era sopra di noi infatti c'era il galleggiante che ha cambiato livello diciamo allora da questa parte torniamo praticamente all'inizio di quest'area ci siamo già passati prima e qua sotto era tutto bloccato adesso invece abbiamo di nuovo la via libera per il trasporto quindi possiamo tornare indietro per il trasporto la via libera bentornati ad iron allora adesso qui in basso non dovrebbe esserci altro possiamo tornare indietro qua a destra dimentico sempre il tempismo particolare di quella creatura no di qua comunque non ci siamo ancora passati è un altro ingresso per la zona con l'emmy che pattugliava proprio qua dove siamo arrivati noi siamo un po' troppo lenti vediamo se ce la faccio aia eh questo è bello veloce questo emmy forse ecco non ce l'ho fatta vediamo se riesco a fare i parry seconda occasione niente mi ha preso quando l'emmy ci cattura abbiamo un paio di possibilità per fargli il parry ovviamente era di nuovo qua se ne sta andando sembra ok vediamo se è di qua no è dall'altra parte che dobbiamo andare sì c'è questo passaggio se abbiamo un po' di fortuna riusciremo a passare indenni oltre l'emmy che ha cambiato area eccolo sta tornando meno male che l'area è vasta lui se ne sta andando altrove perfetto ci siamo abbiamo trovato l'unità centrale ok adesso festa di laser perfetto ora si ragiona abbiamo di nuovo l'energia sufficiente per dargli un bel colpo come si deve all'emmy sbam allora adesso dobbiamo trovare un buon posto per friggere l'emmy proviamo qui intanto il mitra ok però andiamocene un attimo via c'è troppo poco spazio adesso proviamo qui il colpo caricato addio e anche l'emmy giallo lo abbiamo sistemato ed ecco la sua super abilità la super cinesi una delle abilità più belle del gioco però molto particolare difficile da usare permette a Samus di scattare a velocità supersonica dopo una breve corsa premi una volta L mentre corri per preparare la super cinesi se continui a correre per una certa distanza la super cinesi si attiverà quando è attiva qualsiasi nemico sulla tua traiettoria subirà dei danni inoltre quando è attiva Samus può dirigersi in una determinata direzione utilizzando una cometa inclina L verso il basso quando la super cinesi attiva per preparare una cometa quando è pronta premi B per attivarla e poi inclina L nella direzione in cui vuoi dirigere Samus e diciamo che è una delle abilità più belle del gioco però anche una delle più difficili da padroneggiare soprattutto per quanto riguarda l'attivazione della cometa bisogna imparare bene la tempistica per attivarla e sfruttarla a nostro vantaggio infatti ecco la prima abilità della cometa della super cinesi ovvero la possibilità di distruggere i muri abbiamo anche sbloccato un passaggio dove c'è eccolo qua il modulo di energia adesso li abbiamo tutti e quattro abbiamo sbloccato un potenziamento completo possiamo ancora provare la super cometa ecco questo mi frega sempre con il tempismo siamo a posto con le munizioni e insomma adesso si comincia a ragionare abbiamo già un bel po' di abilità non ci vuoi far andare via perfetto disgraziato niente non riesco proprio a prenderlo ok e anche qua per il momento quel serbatoio lì di missili lo possiamo recuperare però dobbiamo fare prima una corsa ecco qui possiamo provare la nostra super cometa possiamo attivarla con la super cinesi inclinare l verso il basso e poi premere b più la direzione per per partire con la super cometa ecco qui un altro bel serbatoio di energia quindi in pochi momenti ci siamo potenziati la barra vitale già di due tacche ottimo allora a questo punto possiamo anche fermarci qui per per il momento abbiamo già sbloccato diverse abilità eliminato anche un altro emmy quindi io per questo episodio mi fermo qui spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo sul canale di safutobu ciao a tutti ciao a tutti